Ciao a tutti, benvenuti Oltre il Velo, episodio dedicato al Novidunio in gemelli del 10 di giugno con eclissi anulare di sole. Siamo nel momento dell'eclissi, abbiamo avuto il 26 di maggio quella totale di Luna in Sagittario e adesso stiamo di fronte a tutto ciò che è stato fatto uscire, vi ricordo che se volete andare a riascoltare quello che ho raccontato, la rottura delle belle balle bolle, quindi tutto quello che adesso un po' gorgoglia, per poterne fare una profonda riflessione dentro di noi, perché stiamo vivendo un momento veramente cruciale e vorrei proprio mostrarvi le insidie ma anche le grandi opportunità che questo Novidunio, come tutti i Novidunio insieme, ci mette a disposizione, però è importantissimo essere profondamente focalizzati. Allora, prima di procedere, vi ricordo che sul sito internet Paola Marangoni Oltre il Velo c'è la possibilità di iscriversi alla newsletter. Allora, vi faccio vedere paolamarangoni.it, oltrevelo.it, paolamarangonioltrevelo.com, scorrendo la home page, vedete proprio appare questa finestra dove c'è la possibilità di iscriversi inserendo il proprio indirizzo email. Cosa ottenete in cambio? Beh, intanto che può capitare che faccia anche delle offerte speciali e quindi chi è iscritto alla newsletter ha diritto magari a delle consulenze tra virgolette scontate, oppure comunque sicuramente essere aggiornati delle ultime novità via via che le promuovo. Allora, questa eclissi, eccolo qua il titolo Estatiche Frenesie. Perché siamo alle porte dell'estate, perché c'è una sensazione di qualcosa che preme per uscire e c'è fortemente anche la sensazione di una pentola a pressione che può esplodere e questo vi mostrerò perché. E anche la sensazione che qualcosa si stia muovendo. Beh, per carità, ci sta che ci stia muovendo, perché comunque siamo all'interno di una configurazione, e lo vedremo nella mappa, dove ci sono tantissimi pianeti, una preponderanza di segni mutevoli, quindi movimento. Ok? Però, però, è importante perché qui siamo a una, secondo me, uno snodo che ci permette di usare con consapevolezza tutto quello che abbiamo portato in superficie grazie a quella precedente eclissi di Sagittario e farne buon uso. E quindi, secondo me, è interessante mostrare appunto il terreno su cui ci muoviamo per cogliere che grande opportunità abbiamo, perché l'intento è proprio quello di renderci conto che stiamo facendo delle esperienze estremamente polarizzate. Vi ricordo che stiamo facendo il transito dell'asse nodale, ecco perché abbiamo l'eclissi in gemelli e in sagittario. Abbiamo il transito dell'asse nodale proprio su questa polarità e quindi il gemelli è il segno delle polarità, perché solo sperimentando le polarità posso trovare una sintesi che mi permetta di passare attraverso, lasciandomi alle spalle le credenze, i dogmi sagittario con cui ho interpretato la realtà per come mi è stata sempre raccontata e quindi riproponendo degli schemi che non sono il mio vero contatto con la vita, ma sono memorie che si perpetuano attraverso di me ricreando il mondo che abbiamo sempre conosciuto. Infatti nell'articolo di questo Novilugno mi focalizzo molto su questo aspetto, cioè sull'aspetto del DVD. Noi stiamo, grazie anche a questa precedente eclissi, vedendo, se abbiamo occhi per vedere, i DVD che sono stati inseriti nel nostro lettore. Noi siamo sostanzialmente dei lettori di DVD che proiettano un film attraverso il quale fare esperienza e comprendere delle cose. Se adesso è in atto una riorganizzazione di tutto e c'è un DVD collettivo che ci sintonizza a un'idea di mondo sempre in conflitto, sempre in privazione, sempre con la necessità di io mi devo tenere questa cosa perché altrimenti resto senza e quindi mi devo tutelare. Il mondo che abbiamo intorno a noi, un mondo che si sta autodistruggendo e che sicuramente non è un mondo di benessere se non per pochi. Allora l'esperienza della dualità che stiamo vivendo attraverso, cioè situazioni polari, ci troviamo adesso ad avere davanti a noi due cose o anche di più e dover fare una scelta. Dobbiamo prendere una decisione perché ci stiamo rendendo conto che tante cose non sono come mi apparivano, che forse ho visto le cose in maniera distorta nella mia singola vita perché sono tutti gli schemi che stanno venendo a galla e anche nel collettivo. Ecco perché a livello globale c'è tutta questa confusione, perché è un riflesso, un'amplificazione di quello che comunque singolarmente stiamo vivendo. E l'invito profondo in questo 9 lunio è di prendere una decisione, la scelta di non ascoltare e vedere più con gli occhi di quel DVD, cioè di accorgerci di che cosa sto proiettando, di dire ok questa cosa ha fatto il suo e fidarsi che già il vederlo provocherà attraverso proprio le forze spirituali in atto il dissolvimento e proprio lo spegnimento di questo vecchio film che ognuno di noi sta proiettando perché tutto questo conflitto, tutto questo avere delle posizioni contrapposte, non riuscire a parlarsi, non riuscire a comunicare, che sta creando questo senso di ognuno per la sua strada. Vi ricordo che questo simbolo sabiano era emerso in autunno in una particolare posizione, ora adesso non me la ricordo esattamente, ma ognuno per la sua strada perché in questo momento si sarebbe d'intralcio l'uno per l'altro, quindi è una grande prova per essere compassionevoli e lasciare e accogliere l'altro dove è la scala, la scala dove ognuno sta salendo, che sono gli 11 gradi dell'acquario dove avremo l'ultima quadratura dell'anno tra Saturno e Urano, quindi ci stiamo preparando a questo, ad accettare che le cose sono così e a fare il nostro perché nel nostro piccolo stiamo accendendo delle fiaccole, delle fiammelle che illuminano attorno, non serve ricreare il vecchio paradigma dove ognuno di noi voleva difendersi, voleva garantirsi una sopravvivenza perché qui la chiamata cruciale è proprio quanto dentro di te ci sono dei pensieri di miseria, paura della miseria, paura che non possa esserci la vita. Questo è l'invito di questo Novilunio perché è il simbolo sabiano di Sole e Luna in gemelli. Abbiamo Mercurio retrogrado, Mercurio è il governatore dei gemelli, che ci invita a farci queste domande. Quando è retrogrado invita proprio a fare una revisione, ad andare dentro, a riflettere, ad osservare tutto quello che ho visto attorno, tutte le storie che mi si stanno mostrando, arrivano informazioni di tutti i tipi, tutto il contrario di tutto. Non può essere che così perché c'è la quadratura di Nettuno su questi pianeti in gemelli, quindi sta creando confusione e vi ricordo che questa confusione non è qualcosa che sentiamo, la sta sentendo tutti, quindi là i comportamenti un po' anche come dire non coerenti sono il risultato del fatto che non tutti sanno che stiamo attraversando questo processo e questo momento epocale, ma l'opera di confusione, l'ho spiegato anche l'altra volta, è finalizzata a spingerci a non usare più il vecchio modo di interpretare, le vecchie modalità mentali, perché stiamo proprio raffinando il nostro sentire, il nostro GPS interiore ed è bellissimo che questo simbolo sia proprio presente nella posizione di Venere. Venere in cancro, in questa lunazione, essendo governatore esoterico dei gemelli, ci parla di un diamante che si sta formando, quindi perché si formi il diamante ci vuole la pressione e di pressione ci parla Nettuno, il simbolo sabiano di Nettuno da cui ho estratto il titolo Estatiche Frenesie, anche per un rimando, no perché adesso ci stiamo avvicinando all'estate, perché adesso sembra che tutto vada bene e quindi wow è finita, attenzione, attenzione perché così perdiamo il focus e invece questo momento è importante per ascoltarci dentro, vedere che cosa è importante per noi e se veramente quello che sta accadendo fuori mi risuona, perché altrimenti significa ritornare a pensare che il mondo sia come prima, il mondo è cambiato e il mondo lo stiamo cambiando noi, quindi c'è questa proprio voglia di prendersi dalla libertà, ma la libertà la costruiamo a partire dall'interno, quindi questa lunazione è fondamentale rendersi conto che non dobbiamo guardare fuori, dobbiamo guardare dentro di noi, dobbiamo guardare quanta abbondanza c'è dentro di noi, quanto credo all'abbondanza, quanto mi hanno addestrato ad aspettarmi peggio, mi hanno addestrato a pensare che beh meno male l'uomo è così, si farà sempre la guerra, è disonesto eccetera, quanto ci credo, perché questa cosa significa avere un dvd e mettermelo dentro sempre nel lettore e ricreare quella realtà, quello che sta accadendo in questo frangente epocale proprio, l'universo si sta dicendo, questi dvd non funzioneranno più, ma solamente se tu continui a metterli, me li continuerai a proiettare, io ti devo spostare, si sta creando proprio questa, non so dirvi bene, perché tanti dicono la separazione, la speciazione, nessuno lo sa, perché tutte le profezie, tutte le previsioni si sono basate su individui che hanno vissuto nel vecchio paradigma, quindi usando il cervello, le connessioni e le conoscenze del vecchio paradigma, quindi per me è una contraddizione in termini, non lo sappiamo come accade, anzi secondo me sta già accadendo, ce l'abbiamo già davanti e siamo chiamati ad avere compassione, perché la compassione è ciò che mi permette di non ricreare il modello separativo che ci mette l'uno contro l'altro, questo è il grande secondo me passaggio e questo significa letteralmente disattivare il DVD, perché il processo in atto è universale, vi ricordo che stiamo attraversando un'area della galassia che non era, non so da quanto tempo non si attraversasse, quindi i codici e gli stimoli energetici che arrivano non sono ricordati a memoria d'uomo. Allora sappiamo che siamo sotto test perché sono presenti l'Arcangelo Uri e l'Arcangelo Michele che è il reggente di questa epoca, Michele, in quanto sono corrispondenti alle stelle fisse congiunte all'asse nodale, nodo nord e nodo sud, questo l'ho fatto vedere anche nei precedenti appuntamenti. La volta scorsa avevamo l'ingresso in campo di un terzo Arcangelo, perché sono quattro Arcangeli che sovrintendono le quattro direzioni, scusate, sembrava quasi che desi la benedizione e adesso ne abbiamo, abbiamo anche il quarto, quindi un novilunio con eclissi che attiva un ciclo così importante per lasciarsi alle spalle questo vecchio voler interpretare le cose che riproduce, ricrea sempre la stessa storia, la stessa solfa con quattro Arcangeli in moto, quindi ci dà il senso proprio dell'importanza. Allora per raccontarvi nel dettaglio come si arriva a queste considerazioni, come sempre vi proietto la mappa della giornata e vi accompagno a fare questo viaggio nella magia dell'astrologia. Non mi sto soffermando sui numeri perché vorrei forse dedicare una cosa a questi, però intanto andiamo allora a vedere questa cosa, questa immagine. allora come vedete, come sempre ormai per me i boomerang e iod sono una costante, questa volta abbiamo due iod di cui uno è un boomerang e questo già aumenta la crucialità del novilunio perché sono proprio appuntamenti col destino, chiamiamolo così, qualcosa che deve essere svelato, qualcosa che deve uscire. Allora abbiamo un nodo che coinvolge, scusate il boomerang che coinvolge l'asse nodale e va proprio a puntare sul nodo sud, via, esci da questo corpo mi viene da dire citando l'esorcista, esci, deve uscire, devono uscire, deve uscire questo dvd, c'è poco da fare, deve uscire. E un'altra è una iod che coinvolge vesta, ci arriviamo un po' alla volta. Allora iniziamo col dire che sole e luna, vedete in gemelli, sono praticamente congiunti a mercurio. Mercurio è il governatore dei gemelli, quindi come dicevo nell'articolo siamo di fronte a una novilunio a carattere impronta mercuriale, quindi di conseguenza coinvolge il nostro modo di pensare, il nostro modo di comunicare, il nostro modo di parlare a noi stessi, le informazioni che abbiamo raccolto, decisioni che dobbiamo prendere, decisioni perché comunque il gemelli polare a un certo punto è trovare la sintesi, non può stare coi piedi sulle scarpe, ha vita naturale durante ed è retrogrado, quindi tutto questo ci sta dicendo, sì tanto movimento, tanto movimento, no? Adesso vedremmo anche con altri parametri, però mercurio che è quello con le ali ai piedi, il dio con le ali ai piedi è invitato a riflettere. Quindi cosa ci sta dicendo questo? Che ci vuole un attimo di pause, pausa, non per sempre ma per ascoltarci, per ascoltarci e per chiederci, farci queste domande. Che cosa spinge il mio agire? Che cosa ho visto in questo periodo? Che cosa sto riconsiderando? Che cosa sto sentendo? E soprattutto come mi accingo nella vita? Sono nel mentale? Sono, penso sempre di avere la soluzione perché razionalmente cerco delle risposte? Perché non ci si capisce più niente, la confusione che si sta creando grazie appunto a questo gioco di quadratura di Nettuno, Nettuno in pesci, mi sta mettendo sotto pressione, siamo letteralmente sotto pressione. Dicevo che questo è il simbolo di Lansdale, un'altra chiaroveggente che ha canalizzato delle immagini per i gradi dello zodiaco che parla proprio di una pentola a pressione che può esplodere, ma che è quel qualcosa che ci fa finalmente uscire dai limiti, i limiti dell'idea di sopravvivenza, i limiti di quello di cui vi ho parlato prima, quanto sono limitato nella miseria. Ma perché dico questo? Perché il simbolo sabiano di sole e luna a 19 gradi parla proprio di una moderna caffetteria che esibisce un'abbondanza di cibo di diverse provenienze. Quindi quanto siamo noi? Quanto è il nostro sistema di credenze a dirmi beh ma tanto, non potrà essere così. Sappiate che siamo dentro una narrazione che ci dice che non ci sono soldi, che abbiamo dei debiti, che di qua che di là. Vi invito a informarvi perché io mi sono fatta le mie ricerche e non pretendo che siano verità. Tra l'altro nota a margine sono anche laureata in economia e commercio, quindi comunque quando le studiavo queste cose già all'epoca dicevo questa cosa non mi torna. Però pensavo di essere scema all'epoca perché sai quando studi economia e commercio sei dentro un sistema e dicevo forse sono io che non sono portata per queste materie. Poi ho compreso che c'era qualcosa che non mi tornava. Ma va bene così, tutto serve nella vita. Ed è la nostra mente intumulto questo Mercurio, però è fondamentale trovare spazi e momenti di connessione perché le risposte Nettuno, se io cerco di rispondere, di avere le risposte dalla mia parte razionale mi prendo delle cantonate perché Nettuno è l'ingannatore. Si tratta invece di stare in ascolto, di rimanere aperti, di non avere fretta perché tutto si muove velocissimamente, quindi vedrete, ma di ricevere dalla sorgente connessione con l'oltre Nettuno in pesci. Grado molto importante questo perché ci farà la retrogradazione. Perché altrimenti poi questa frenesia, proprio viene usato il termine frenesia nel simbolo di Lonsdale di Nettuno, può spingere a agire Marte in maniera emotiva. È nell'ultimo grado del cancro, ok? Quindi gli ultimi gradi amplificano perché si vuole andare, cioè questa roba qui non si sopporta più, parla proprio di una figlia della rivoluzione americana. Ecco, tra l'altro, scusate, questa cosa, vedete, non sapevo di doverla dire ma adesso mi è venuta in mente perché parla della figlia della rivoluzione americana e non è un caso, perché vi dico così una nota latere, una nota di colore, che questa eclissi ha molti punti, molti pianeti che sono collegati al tema natale di Donald Trump. E negli Stati Uniti le cose sembrano tutte tranquille, ma in realtà, in realtà, loro si stanno avvicinando al ritorno di Plutone sul Plutone natale a 27 gradi del Capricorno, quindi a fine anno. E questa eclissi, secondo me, può attivare qualcosa, perché in America tutto tace, ma secondo me è qualcosa prima o poi, e quindi questa pentola, pressione che esplode, staremo a vedere. Allora, quindi, se io voglio risolvere a livello razionale, no, quindi non ascolto dentro di me, non sto a ricevere le tantissime, tantissime, ve lo dico proprio aiosa intuizioni che arrivano, no, mi posso essere spinto ad agire in maniera emotiva e idealistica, perché agisce la reazione emotiva, non ce la faccio più, quindi spingo, e tutto questo è inconciliabile, perché adesso questo non si vede bene, perché ci sono dei colori sopra, è inconciliabile con Giove, vedete che c'è un Queen Cons, con Giove in pesci, cioè sostanzialmente mi impedisce di andare oltre le vecchie memorie pietrificate, cioè io reagisco, continuo a reagire a, rispetto a delle storie che sono quelle che vi ho appena detto, questi DVD che stiamo lasciando andare, i DVD che sono immersi nel mare, illusorio delle acque torbide dei pesci. Giove è congiunta alla stella fissa Fomalhaut e quindi ci chiama a essere veri a noi stessi, veri, non ascoltare le memorie che ci portiamo da mo, e il suo simbolo sabiano parla proprio di tronchi pietrificati su una terra deserta, cioè ormai quella roba lì è morta, non puoi continuare a rispondere, a reagire Marte sulla base di questo, proprio il Queen Cons parla chiaro, ed è fondamentale invece espandere la compassione, la compassione per noi stessi, la compassione per le storie che ci siamo raccontati, la compassione per il fatto che non siamo come pensavamo di essere, che gli altri non sono come pensavamo fossero, ma fondamentalmente questo è l'unico modo per far sì con la coscienza e l'osservazione che questi DVD, queste vecchie storie che continuiamo a perpetrare, dove ognuno di noi ha sempre qualcuno a cui attribuire la colpa, sempre qualcosa su cui scagliarsi, si rimettano in moto, perché l'invito è proprio quello di andare dentro, l'invito è di non guardare più fuori, ma portare la pace e l'abbondanza a partire da noi stessi e questo che poi cambierà il mondo, non il mondo cambia l'ora dopo io sono contento che insomma è tutto il contrario Allora, vediamo che è interessante, andiamo a vedere adesso a questo punto i nostri boomerang e il primo boomerang è quello che coinvolge l'asse nodale, quindi fondamentale qualcosa, questo DVD si deve proprio queste regole, perché il nodo sud in sagittario parlava proprio della partita di cricket, un gioco a cricket quindi seguire delle regole per muoversi nel mondo, mentre il nodo nord parla di pionieri che si aprono a nuovi orizzonti, quindi siamo chiamati proprio a lasciare andare per aprirci a nuovi orizzonti e vedete che è stimolato appunto da Venere, che è il governatore esoterico dei gemelli in Cancro e da Urano e Cerere che sono congiunti, quindi io cerco di tenere in vita queste vecchie, questi vecchi doghi queste regole per poter garantirmi, non voler lasciare andare qualcosa, perché Urano e Cerere parlano di qualcosa da cui ci dobbiamo staccare, qualcosa che noi crediamo ci dia nutrimento, Cerere perché ci dà la sicurezza, la sicurezza di essere amati per esempio, invece in realtà ci chiama ad andare a vedere che ci sono degli schemi, eccoli qua, schemi di credenze, che ci fanno tenere in vita relazioni dove noi stiamo cercando di portare un peso più grande, cioè sono le relazioni che noi teniamo in piedi sulla base di vecchi dogmi che ci arrivano dalle memorie, vedete qua, che ci arrivano dalle memorie dei pesci, qui abbiamo Giove quindi cosa significa? Sono di fronte a una scelta, vorrei andare in una certa direzione però mi è stato detto che così faccio del male, che così l'altra persona starà male, ma perché poi questo mi succederà a quest'altro non avrò da mangiare, vedete qui, io devo portare per forza il peso, ecco tutto questo ci incatena in vecchie dinamiche di sopravvivenza della coscienza di massa Cancro, Venere deve andare a sentire, noi stiamo allenando il nostro sentire e quindi non deve ascoltare le vecchie storie per poter andare verso i nuovi orizzonti e staccarsi dalle false presunte certezze che crediamo ci diano nutrimento e questa cosa, vedete, c'è Urano e Cerere che come sempre Urano sta facendo il quadrato con, la quadratura con Saturno che il 15 anzi, il 15 di giugno, quindi 5 giorni prima, anche se sarà a mezzanotte un minuto, quindi più 14 che 15 per quello sentirete alcuni dire che è 14, dipende dal fuso orario, avranno la quadratura diretta a 13 gradi e quindi vuol dire che qui agisce molto forte l'effetto sorpresa per creare una situazione che ci mette con le spalle al muro e dire no adesso scegli, adesso ascoltati bene, adesso vai a vedere cosa, qual è la fiamma, dove fai ardere la tua fiamma ricordiamoci questa vesta, stai rimanendo sull'apparenza perché se tu segui la tua fiamma e ti vedi per quello che sei questi 15 gradi, interessante perché poi questa cosa mi è arrivata scrivendo l'articolo, questi 15 gradi della Vergine parla proprio di bambini che vengono portati allo zoo davanti a una gabbia con gli orangotang ecco, noi in queste memorie di miseria vediamo tutta la roba che non ci è piaciuta di noi stessi, non ci piace degli altri ma dobbiamo andare oltre perché quelle sono le cose che si sono create con anni, 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 anni di incomprensioni dobbiamo guardarci queste parti che ci fanno paura in noi stessi e negli altri e dire tutto questo è un'apparenza la Vergine, è un'apparenza e nel momento in cui io riesco a non credere all'apparenza e a dire sta accadendo una grande purificazione vesta, io contatto la mia fiamma e quindi prendo delle decisioni ok, forse ho fatto un po' di rumore sul microfono, prendo delle decisioni che mi portano ad assumermi la responsabilità acquario per il futuro di queste cose perché guardandomene in faccia, guardando le storie che proietta il dvd con la mia osservazione permetto alla forza che è in campo di disattivarlo un po' alla volta e quindi di guarirmi ecco che abbiamo Chirone a 12 gradi congiunto a Ecate quindi sono dei crocivia fondamentali per prendersi ognuno di noi la responsabilità del proprio dvd, lo prendo, lo sto guardando, dico ok questa cosa si sta dissolvendo, serve la mia attenzione, serve la mia comprensione perché le comprensioni arrivano a Yosa e tutto questo permette a me di essere strumento per diffondere la nuova energia, diffondere il nuovo paradigma interrompere questo perpetuarsi di credenze che il mondo sia solamente fatto di guerra, di opposizione, di incomprensioni comincia tu, comincia tu ad emanare, allora io vorrei vedere, chiamare in causa anche Karma l'asteroide Karma che in questo punto, mi sembrava fosse, sì, è vedete a zero gradi, è congiunto alla stella fissa a regolo ed è opposto a, naturalmente perché sono sempre in opposizione, gli Arcangeli a Giove ci sta dicendo tutto questo è un processo karmico che sei chiamato a fare è un processo karmico per cui sei chiamato a vederle queste cose perché è solo la compassione che puoi emettere dal tuo cuore permette a tutto il campo di purificarsi, permette a tutto il collettivo di fare un passaggio ecco che allora diventa fondamentale il contributo di ciascuno ecco che per cui qualunque cosa stia accadendo nella nostra vita e che ci chiama a una scelta, che ci chiama a un turbamento il fatto che noi riusciamo a osservare, riflettere e assumerci la responsabilità di che cosa veramente sentiamo non le voci che ci sono state tramandate le devi far così perché devi fare con la ma perché poi c'è tutto quello che ha ricreato costantemente il vecchio paradigma allora solo così riusciamo a fare il cambiamento e quindi è smettere di lamentarci se fuori c'è chi non mi ascolta se fuori c'è qualcuno che mi sta anche minacciando ma quella persona che mi sta minacciando è solamente un ologramma di qualcosa che dentro di me credo esista ancora come minaccia lo so che può sembrare paradossale dire ah ma magari tu non ti trovi in situazioni di questo tipo e allora come fai a parlare allora intanto anch'io ho le mie situazioni importanti da vedermi anche perché vorrei mostrarvi i transiti di quest'anno sul mio tema natale e quindi insomma c'è tanta roba ma è sempre l'atteggiamento che noi abbiamo che fa cambiare tutto l'atteggiamento che dice ok davanti a me io non sto vedendo la realtà e chiedo chiedo perché questa domanda chiedo di vedere mi apre proprio la prospettiva mi apre questi nuovi orizzonti questi sono i test se noi reagiamo impulsivamente se noi cerchiamo di fuggire se noi cerchiamo di cambiare perché ho pensato questa cosa if then else programma il programma riprendiamo sempre i vecchi DVD dalla scrivania o dalla dalla libreria non ne veniamo fuori quindi questa separazione questa speciazione di cui si sta parlando è solamente una metafora per dire è già in mezzo a noi la possibilità di convivere pur sentendo cose diverse ma io faccio il mio perché facendo il mio ascoltando il mio cuore regolo un arcangelo raffaele su karma ascoltando il mio cuore so che sto contribuendo sto creando tutte le connessioni nel campo perché poi anche altri possano seguire e possano fare non devo andare dall'altro a cambiare devo farlo dentro di me è di riflesso la vita crea poi tutte le connessioni e via via che ognuno permette la disattivazione del proprio DVD tutto questo si espande a macchia d'olio è importante questo novilunio è importante perché è uno snodo visto che abbiamo tutti questi supporti dei quattro arcangeli è uno snodo perché poi adesso avremo presi da queste statiche frenesie ma abbiamo un appuntamento in autunno che ci vuole centrati ci vuole non più a guardare l'esterno ad aspettare che l'esterno cambi ad aspettare che arrivi qualcuno che mi dia la soluzione ma ha bisogno di tanti di noi che siano nella pace interiore per permettere al cambiamento che sta dissolvendo il vecchio paradigma di fare il suo processo il suo percorso di questo ovviamente vi parlerò più avanti perché ho già spulciato ho già guardato ci sono cose molto interessanti ma richiede proprio l'impegno la responsabilità di ciascuno di noi vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a breve perché ho un progetto di fare un video su una new entry ciao grazie grazie